Interporto di Padova è una società a partecipazione pubblica e locale, opera nell'ambito dell'intermodalità e movimenta circa 400.000 container all'anno. Il nostro rapporto con Cassa Depositi e Presti è stato virtuoso perché ci ha permesso di realizzare un progetto ambizioso, tra i primi in Europa e i primi sicuramente in Italia, con l'inserimento di quattro enormi gru a portale elettriche. E si è completato con l'acquisto della quinta gru, abbiamo trovato anche le risorse per poter completare il progetto strategico di automazione. Gli obiettivi di efficientamento sono quelli già raggiunti, ma soprattutto questo ci permetterà nell'arco temporale di circa due anni un ulteriore step in avanti, sempre grazie a Cassa, nel percorso di aggiornamento tecnologico che è indispensabile per poter competere a livello internazionale. Grazie a tutti!